quindi però staremo a vedere magari un cavillo tecnico è uscita la parodia di Asbin Hotel con Serpencius Romagnolo lo guarderai? forse forse Badatino forse non sono sicuro Vincent grazie per i23 Badatino grazie di sa ma avete detto di guardare il video di Jumbo Drillo che ha fatto mica Jumbo porca troia Jumbo 27 100.000 visual in un giorno però notevole che cazzo si chiama mi hanno ricordato che sono brutto ma poi non è brutto ma perché questa cosa non è brutto Jumbo è un ragazzo normale perché è brutto io non ho capito perché è brutto o bruttino Jumbo Drillo Jumbo Drillo lui rientra perfettamente nello stereotipo del brutto e sfigato che ce l'ha fatta ma perché ma che cos'è questa violenza verbale Jiet grazie per la Jumbo diciamocelo sei brutto ma sti cazzi ma ma cos'è ma chi se ne frega ma cos'è sta fissa per la bellezza che hanno tutti ma chi se ne fotte ma chi se ne fotte ma chi sei buon sei brutto mi hanno detto che sono brutto io erano quattro anni che qualcuno non mi chiamava effettivamente brutto mi ero completamente dimenticato non mi ricordavo di essere brutto mia madre mi ha sempre detto saresti bello se fossi bello mi piace mi piace tua madre a stile saresti bello se fossi bello grazie che incoraggiamento che incoraggiamento incredibile che questo video sia un ego boost però cioè dai eh almeno non sono il coinquilino più brutto di questa casa un po' di tempo fa un iscritto mi ha detto mi ha visto il video di Crissolanza dato che ero curioso chi? sono andato a vedere effettivamente il canale di questo Crissolanza e mi è comparso il video lo strano caso di Jumbo Drillo lo strano caso attenzione lo strano caso che poteva anche essere chiamato il brutto caso di Jumbo Drillo lo strano faccio una premessa caro Crissolanza questo video non è ovviamente contro di te però ci tenevo a rispondere innanzitutto no no fai un dissing dai che i dissing sono sempre belli il video parte con una intro presa dai miei vecchi video quando ero giovane e brutto ora sono solo giovane Jumbo dice va bene chiamocelo sei brutto adesso io ti voglio bene però da che pulpito ma da che pulpito anche se continuo a non capire il senso di questa importanza dell'estetica non ho capito non ho capito ma perché così fissati con la bellezza ma chi se ne frega ma pensi che la specie umana si sia sviluppata grazie alla bellezza ma ma cos'è sta fissa della bellezza io non ho mica capito mi definisco un blackpillato piuttosto un cinico e nichilista un cos'è un blackpillato no ragazzi no altri termini cos'è blackpillato adesso cazzo sti termini cos'è cosa vuol dire adesso blackpillato aspetta spero non lo spieghi lui mi definisco un blackpillato per chi non fosse nel mondo oh grazie jumbo grazie al cielo la redpill per chi non conoscesse questi termini basta sapere che appunto ci sono due pillole una blu e una rossa la pillola blu cos'è matrix è quella che ti lascia nell'ignoranza scopo sono felice non scopo non sono felice ma sti cazzo alle donne interessa il carattere prima di ogni cosa blu pillato ah ok cioè praticamente il blu pillato è quello che dice cose che secondo gli altri non sono vere perché ovviamente perché ovviamente il carattere non è non è assolutamente parte inclusivo della capacità seduttiva di una per... no 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 ma che scherzi no la simpatia il carattere il carisma la personalità no no non attraggono assolutamente tutte queste cose no 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 assolutamente no di fatti chissà come mai c'è un sacco di persone che anche pur non essendo bella hanno una bellissima personalità e un carattere sgargiante trombano a be... chissà come mai no no però no no sono una bellezza e i fondi mazze delle motivazioni il red pillato invece è colui che conosce è detentore della... bro l'np l'np cos'è l'np adesso nemmeno se evito di uscire mi scolorisco le ciglia sopracciglia e capelli ho un'idea l'adass ho un'idea straordinaria questo sistema è segreto potrebbe funzionare allora fai così tu devi metterti una benda davanti agli occhi così in modo da non vedere assolutamente niente e poi cominci a girovagare sull'autostrada a 14 appena senti sei diventata albina è una trasformazione segreta però mi raccomando no patatina non c'è rassegnati basta non c'è allora che cos'è che cos'è che cos'è le che cos'è le l'np grazie per il ciglia che cos'è l'np cos'è bro l'np qualcuno mi spiega che cos'è l'np per favore le donne no donne np ah le no personalità ah ok ah le non persone ah ok e che cazzo sono le donne scusa ne da la panza guardano solo l'estetica il denaro e la fama se non hai niente di queste tre cose per te è finita io amico mio io se questo se il tuo pensiero è che le donne guardano solo l'estetica il denaro la fama e credi che queste sia le uniche cose che funzionino per attrarre qualcuno uno non sai nulla di seduzione letteralmente nulla non dico che devi andare a studiare il metodo misteri o altri sistemi dei pick up artist perché vuol dire che non sai niente di quello che piace alle donne niente due sei troppo stupido per riprodurti questa è la realtà se semplifichi l'accoppiamento a questa frase vuol dire che sei troppo stupido per riprodurti mi dispiace la cosa più attraente in un uomo è l'intelletto mi dispiace elettori della schline la cosa più attraente di un uomo è e rimane l'intelletto e se tu non sei in grado di sviluppare un concetto logico per il quale non riesci a capire che quello che hai detto è una strozzata sei troppo stupido per accopiarti no no non che ci sia solo quello perché poi anche se sei un genio però fai schifo come essere umano non serve però in linea generica in linea di massima ma le stavo scherzando in linea di massima se tu pensi che estetica denaro e fama sia l'unica cosa che serve sei stupido anche perché tra le altre cose io mi tocca ripeterlo mi tocca ripeterlo e sottoscriverlo di nuovo no lo so che questo romano rudo non dovresti perché troppo stupido il denaro e la fama sono delle cose che spesso e volentieri arrivano per altri tipi di caratteristiche cioè il denaro e la fama non sono casuali non è una cosa che arriva perché sì cioè il denaro e la fama spesso e volentieri arrivano perché o ci si impegna con costanza a fare qualcosa e sia particolarmente bravi a fare qualcosa ma quindi sia anche costanti bravi si riesce a perseguire gli obiettivi si sta dietro si sopporta lo stress quindi ci sono tutte queste altre caratteristiche che quindi ti portano ad avere la fama se no non ce l'ha cioè il denaro e la fama non sono cose random non è che ce l'hai a caso ce l'hai se sei un certo tipo di persona cioè se hai un certo tipo di carattere di personalità di palle e uno che dice questa con questa frase qui è una persona che le palle non le ha cioè quindi la verità assoluta ma poi attenzione arriva il blackpillato il blackpillato non solo conosce il motivo per cui non scopa ma si arrende l'np non mi voglio non so bruttissimo per me è finito va bene va bene il fatto che mai potrà farlo mi definisco un blackpillato quindi un uomo arreso in poche parole e questa cosa mi dispiace io dopo il video che feci quattro anni fa sì però che vita di merda veramente che natura di merda odio così tanto la mia natura non avevo mai sentito una persona odiare il fatto che non avesse un problema genetico che gli impedisse di sporsi al sole la vita è veramente strana no comunque scusate ha ben definito lupillato uno che negava l'evidenza ebbene ne è passata di acqua sotto i ponti sicuramente è passata più acqua sotto i ponti che figa nel mio letto la teoria della re... l'ho capita e concordo con il 90 per cento di quello che effettivamente dicono però è un grandissimo modo per fasciarsi la testa e non vivere il problema del redpillato è quello del ripetersi sempre in continuazione eh ma io sono brutto eh ma io faccio schifo eh io sono una merda eh quello effettivamente è molto attraente effettivamente quello è molto attraente non c'è nulla di più attraente per una donna di un ragazzo che non fa altro che dire faccio schifo faccio cagare sono bruttissimo effettivamente wow le donne si bagnano tutte e proprio il lago di macalani esonda la patonza sgocciola e riempie la stessa non c'è nulla di più sexy di un uomo che non fa altro che piangersi addosso e compatirsi wow quello sì che eccita le signorine che ho scoperto sulla mia pelle non è lilith com'è che non mi insegna che hai la sub? fai la sub immediatamente non ti permettere mai più essere la migliore delle medicine diciamo cioè secondo me deve arrivare a un certo punto della tua vita un momento in cui dici sti cazzi e ve lo dice uno che si è vissuto malissimo le superiori ok io ogni giorno ero lì che mi mangiavo le cazzo di mani perché vedevo il fighetto della classe che si scopava tutte e proprio poi c'ero io lì nell'angolino che beh però grazie lui è bello ci credo che scopi ma l'elementari che carino andrea grazie perché è stato una sabbalili grazie mille andrea sì vabbè ho capito ma vabbè ma voglio dire guarda che poi anche trombare cioè voglio dire non è non è non è cioè passare passare tutta l'adolescenza a cercare di trombare è uno sbatto incredibile bisogna anche averne voglia non è una cosa non è così scontata è così ovvio cioè non è lo fa sembrare come la cosa più bella del mondo cioè io ho capito sì è divertente per quei 45 secondi però c'è anche lì cioè ci vuol dello sbatto della costanza dell'allenamento e mica facendo così quante ne ho scopate fucking zero bro cioè non che se fosse stato propositivo magari avrei però non lo so non possiamo sapere ma peggio non poteva andare quindi in realtà di questa cosa ne ha conoscenza anche questo ragazzo che nel video appunto spiega perché Jumbo Drillo ha scopato nella community incert c'è un termine che non ha una traduzione italiana ed è luffi duffi un uomo luffi duffi luffi duffi un uomo che nonostante il suo aspetto mediocre o brutto riesce ad avere relazioni spesso è e potrebbe essere dico potrebbe essere perché ha qualcosa ha qualcosa volentieri con ragazze anche superiori al suo aspetto estetico ma scusate adesso però adesso però scusatemi io qui mi devo impuntare io qui mi incazzo scusatemi allora perdonatevi ma se avete se anche voi dite che esistono determinate caratteristiche che ti permettono di trombare pur non essendo bello perché continuate a sostenere che l'unico modo per trombare è essere bello cioè a questo a questo punto non è più ignoranza è proprio demenza cerebrale è stupidità scusami esiste un termine che definisce persone brutte che scopano perché hanno qualcosa oltre alla bellezza che attrae le donne poi scena dopo no l'unico modo per attraere le donne sarebbe ma allora sei stupido non è che sei giumbodrillo incarna esattamente questo concetto ovvero una personalità un po' fuori dagli schemi il ragazzo bruttino che però magari facendo ridere utilizzando questo questo personaggio è riuscito comunque ad avere delle relazioni strano modo per presentarsi comunque potrebbe essere per il fatto che e dico potrebbe essere per il fatto che oltre alla bellezza c'è tutto un intero mondo un intero universo dietro potrebbe essere piacere mio e spiega appunto questa teoria del lufidufi il bruttino simpatico che in qualche modo se la cava ok shaggy di scubidoo jim carrey quello che riesce in qualche modo a sfangarsela che in realtà ci fotto come teoria ci fotto tantissimo alle superiori ad esempio c'era questo ragazzo era una palla era una fottuta palla era la stessa consistenza di quei palloni giganti d'aria nella quale puoi fare il criceta va con la più figa della scuola cazzo come cazzo ha fatto come fa tutto quel tessuto adiposo a piacere a una donna eh dipende jumbo jumbo preparati a una reazione a questo video mi sento preso in caso dipende jumbo dipende non devi mai sottovalutare anche le signorine ricordati jumbo che le signorine hanno tutti dei traumi dietro e devi saperli sfruttare questi traumi per trombartene eh c'è quella che ha il trauma del papà anoressico che quindi ora va con i ciccioni per compensare c'è quella che ha il trauma del padre troppo femminile quindi cerca il maschione che ru... eh ragazzi bisogna cercare di capire io ho sempre detto se vuoi trombarti una ragazza cerca di capire come sono i suoi genitori funziona quasi sempre funziona quasi sempre bisogna riuscire a capire come sono i genitori e tu devi adeguarti per riuscire a trombartene perché funziona trova il suo trauma e potrà essere ma poi io mi sento in colpa Mario tanto se non te la trombi tu se la tromba qualcun altro quindi non è che... almeno voglio dire tu conosci già i suoi traumi quindi sai già dove andrai a parare mettendoti con lei tanto se non c'è tu è un altro non è detto per forza che sia uno migliore di te non è per forza detto che sia uno migliore di te io sono sempre stato di una grande filosofia quando io ci provavo con una ragazza al mondo non esisteva un ragazzo migliore di me per stare con lei so che era sbagliata ma è la mia filosofia ma era la mia filosofia perché sì perché... perché sì perché se voglio io qualcosa se qualcuno lo vuole ti tiro un cazzotto cioè questo... questo... era questa la mia filosofia se voglio una femmina quella femmina è mia cioè questa era la mia filosofia Filippo grazie a me eri gli undici si si per me era questa la mia filosofia di vita pensavo... poi parlando con gli altri della scuola ho effettivamente capito che questo ragazzo era simpatico era un uffidufi cultura del possesso sì ma guarda che non è una cosa non lo sto dicendo tanto per dire non è uno scherzo è una cosa seria cioè guarda che quando io avevo 15 anni a me piaceva una ragazza quando avevo 15 anni una ragazza che però non era particolarmente interessata da me quando questa ragazza si è fidanzata con un altro mio compagno di classe questo mio compagno di classe è venuto a chiedermi se la cosa mi turbava mi creava problemi o se ero arrabbiato aveva paura aveva paura che lo venavi è una cosa successa veramente io ho detto no ma è tranquillo in realtà pensavo come investirlo con la macchina però nel senso che bullo sì un po' sì è vero un pochino non tanto io li difendevo le vittime dei bulli però ogni tanto effettivamente avevo avevo quell'atteggiamento un po' bullo io effettivamente è vero non lo nego ed era anche molto ricco secondo me vabbè comunque il video va avanti vabbè era un pensiero non è che ho preso in esempio il caso di Jumbo proprio per questo motivo si è costruito un personaggio si è creato uno status ha ottenuto qualche relazione ma l'esito è sempre stato negativo vabbè ma questo sarà il cazzo suo scusami ma voi che cazzo ne sapete del perché l'esito è stato negativo scusami ma io non ho idea scusami non ho capito ma voi che cazzo ne sapete dei motivi cioè non sto capendo perché magari è arrivato il Chad di turno e li ha fatto a lui in un modo e a lei in un altro modo li ha fatto io e Jumbo stessa faccia io e Jumbo stessa faccia cosa aiuto e cosa il Chad di turno no ragazzi sono troppo stupidi il problema di quel tizio non è che è brutto è che è stupido ragazzi è stupido è quelli il problema ci avete fatto caso non è il problema che è brutto è stupido sembra proprio lento a me quando parla sembra proprio lento a parlare cioè sembra uno col quotiente intellettivo di 85 non so come dire vabbè che io ce l'ho penso superiore ai 140 quindi effettivamente tra me e lui c'è un divario di un intero step evolutivo però però nel senso il problema secondo me quel ragazzo non tromba perché non è sveglio è quello il motivo amico mio tu non scopi non perché sei brutto perché non sei sveglio tu sei stupido amico mio e questo è il tuo problema è per quello che non trombi modesto ragazzi sono nel mensa non è un banto è la realtà oggettiva dei fatti è semplicemente così ma non è che ti possiamo Andrea hai solo 18 deviazioni standard rispetto a lui nulla di che zero il cosiddetto intellettivo si basa su cosa sulla capacità logica razionale di risolvere problemi deduttivi che richiedono la logica è solo è solo quello è solo quello parliamo di logica vivi grazie benedio ciparatino stiamo parlando di logica non pensare riguarda solo quello il cosiddetto intellettivo è una delle intelligenze sì è vero è l'unica che conta veramente per me nel mensa io in cucina ognuno Andre se vuoi ci vediamo facciamo sesso pazzo gay e poi facciamo anche da mangiare voglio dire esiste anche l'intelligenza artistica ma che cazzo se ne frega l'intelligenza artistica che cazzo che cazzo se ne frega c'è l'intelligenza empatica ma vaffa quindi di conseguenza quindi è quello e il problema di quel ragazzo lì è che è stupido è stupido è quello il tuo problema zio ha seriamente detto nel video parla anche di altre teorie per la quale un brutto può effettivamente arrivare a conquistare una bella ragazza prima di tutto la teoria per la quale le ragazze solitamente vanno con un ragazzo che vedono come più brutto di loro esse tenderebbero ad andare con uomini di aspetto meno bello perché con un uomo bello si sentirebbero di non riuscire a gestirlo quello sì lo fanno specialmente le ragazze insicure o quelle che hanno qualche tipo di trauma passato sono ottime quelle sono ottime perché spesso e volentieri si accontenteranno effettivamente a livello puramente estetico di uno bruttino perché uno bello è troppo problematico però a livello estetico poi c'è tutto il resto poi c'è tutto il resto devi anche essere devi anche avere tutta una serie di di altre sfumature caratteriali interessanti se no non basta cioè loro devono essere le belle della coppia che può essere un'altra ragione per cui i brutti scopano è che grazie al femminismo le donne si sentono forti e indipendenti e perciò non volendo sottomettersi all'uomo preferiscono un uomo passivo e voi direte giù questa teoria non esiste questa teoria non esiste questa teoria è letteralmente antibiologica non esiste non esiste primo devo svelarvi una mara verità lo so mi dispiace femminista in chat devo svelarmi una mara verità non esistono le donne forti e indipendenti e non e non attenzione non perché non esistono le donne forti e indipendenti ma per il semplice fatto che quello che chiamano loro essere forti e indipendenti è un adulto base mi dispiace lavorare e pagarsi da sola l'affitto e il cibo non essere forti e indipendenti essere un adulto base mi dispiace non non siete forti e indipendenti siete adulti base quindi non esistono le donne forti e indipendenti e secondo luogo anche se fosse anche se fosse Andrea so che non c'entra niente ma potresti raccontare la storia di quando volevi fare il militare? ma l'ho già raccontata quella storia mi ha fatto ridere troppo e che cazzo è l'hai raccontata? grazie in anticipo se lo farai ma che cotto ti voglio bene però l'ho già raccontata tu la sai già che cazzo hai raccontato? adesso magari più avanti si uscirà l'argomento ma adesso grazie per il circo grazie mille l'ha toccata piano ma beh è la verità però voglio dire è questo io sono forte e indipendente sto imparando a uccidere blatte e ragni oh che carina allora dicevo dicevo quindi di conseguenza non è non è quello non è assolutamente vero perché comunque anche una donna forte e indipendente che uccide blatte e ragni comunque cercherà un uomo altrettanto forte e indipendente questa è la regola base come diceva Grimbaud il simile scioglie il simile cioè l'opposto che gli opposti si attragono è una stronzata incredibile non ci credete è una bugia è una bugia non è vero che gli opposti si attragono ragazzi la gente cerca persone simili a sé per stare insieme se è una donna è indipendente cercherà un uomo indipendente è una cazzata quella che gli opposti si attragono è una bugia incredibile tanto più tanto più una donna che cerca un uomo passivo che sia completamente sottomesso alla vita è antibiologico proprio è una caratteristica che biologicamente le donne non trovano attraente a meno che lei non abbia dei traumi peculiari che l'ha portato a trovare attraenti quel tipo di uomo lì ma un uomo sottomesso succube alla vita non è una cosa che le donne hanno mai trovato attraenti nella storia dell'uomo quindi ma tu cosa ne pensi di tutte queste teorie il bro non ha tutti i toni hai provato a fare il militare sì ma poi mi sono ritirato cioè ho provato ho visto come l'ambiente me ne sono andato anche perché ho capito che mi avrebbero cacciato loro dopo due tre settimane ero troppo anarchico per stare là dentro ero troppo anarchico per stare là dentro mi sono fatto urlare in faccia da un tenente dal medico che controllava mi ha urlato in faccia anche lui mi ha urlato in faccia un caporal maggiore non è un ambiente che fa per me ero troppo casinista e distruttivo per quel posto di ordine e disciplina non è non è non è non è che ti hanno detto allora le scene cardini le scene cardini sono state queste le scene cardini lo dico per chi non lo sa ovviamente perché chi già lo sa quando sono andato a fare la visita per il militare ti dovevano controllare le palle e il buco del culo perché si ti controllano lì non so esattamente ancora quella è la ragione ma vabbè è stato di fatto che comunque sia prima di farti entrare dal medico dell'esercito che ti deve controllare lo stato fisico comunque ti vanno a mettere in uno spogliatoio in mutande con delle come si dice delle pattine di plastica ai piedi perché vai scalzo con delle pattine di plastica ai piedi e io praticamente ho aperto la porta dello spogliatoio cioè lo spogliato della stanza d'attesa e c'era una cosa come 30 ragazzi tutti in mutande lì con le pattine che erano tutti quanti così al muro così fermi che guardavano per terra tutti quanti in imbarazzo io come sono entrato ho urlato oh che bello stamattina speravo proprio di entrare in uno spogliatoio con 30 maschioni in mutande si sono messi tutti a ridere c'è il medico che dalla stanza di là comincia a fare con silenzio è stata una cosa non ho saputo resistere è stato più forte è stato più forte di me e dopo e dopo abbiamo cominciato a chiacchierare dopo dopo abbiamo dopo abbiamo cominciato a chiacchierare noi abbiamo cominciato a parlare abbiamo fatto sì abbiamo fatto delle chiacchierare facevano del casino ragazzi facevano del casino io esticavo facevano del casino della madonna poi è stata anche una scena comica io non ho capito io non ho capito perché il medico che il medico quello dell'esercito che ti doveva guardare anche le palle il cazzo non so perché quando ha visto le mie palle era tutto soddisfatto ha fatto bene bene dottore c'è qualcosa dottore c'è qualcosa che mi deve dire voi dell'esercito sapete qualcosa che noi comuni mortali non sappiamo perché 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 il mio scroto di dimensioni notevolmente massiccia dovrebbe essere una cosa positiva sì ma qual è l'attinenza scusami qual è l'attinenza esattamente punto di domanda qual è l'attinenza con lo sparare in faccia agli altri no ragazzi ma io non potevo ragazzi ma io non potevo cioè io avevamo io in un quarto d'ora avevo già formato una mini gang cioè avevo già formato una mini gang eravamo in 6-7 che andavamo con gli altri verso una stanza o un'altra a fare i test a un certo punto c'è passata di fianco c'è passata di fianco una soldatessa con altri tre soldati e io me la scorderò mai ragazzi si chiamava dolcetto questa soldatessa e perché io lo sapevo perché aveva il nome qui aveva il nome qua con scritto dolcetto allora noi siamo passati io faccio agli altri e ragazzi c'è pasticcino cioè lei che si è girata mi ha guardato malissimo mi ha guardato malissimo ma ragazzi c'è pasticcino e gli altri c'è cran caramel tiramisù di cognome faceva dolcetto ragazzi di cognome faceva dolcetto e allora c'è pasticcino molto male ehi pasticcino ci vediamo stasera tu mi mostri il tuo fucile io ti mostro il mio oddio è stato veramente divertente però alla fine non mi piaceva non mi piaceva l'ambiente non mi piaceva l'ambiente dell'esercito non mi convinceva abbastanza quindi alla fine ho mollato non mandava mi sentivo troppo intelligente per la media delle persone che era lì mi dispiace avrei voluto delle due avrei voluto fare la carriera come ufficiale come soldato base non mi convinceva non mi ha convinto l'ambiente non mi ha preso particolarmente no è vero non mi piaceva l'ambiente non mi aveva convinto l'ambiente non mi aveva convinto l'ambiente ragazzi I soldati base erano troppo Degli huligan di calcio per me Almeno l'esperienza che ho vissuto io Poi magari in un altro posto Era tutto un altro mondo Però i soldati base con cui ho parlato io Erano troppo degli huligan di calcio Non mi convincevano raga Non mi ha convinto l'ambiente Perché non l'hai fatto l'ufficiale? Era troppo grande L'ufficiale lo puoi fare fino a massimo 22 anni Allora andiamo Degli ultra Degli ultra di calcio Blackpill mentality Il bro ha le sue ragioni Mi sono perso completamente che cazzo stavamo parlando qua dentro Però non stiamo parlando di fisica Non stiamo parlando di chimica Stiamo parlando di esseri umani E stiamo parlando soprattutto di donne Che è incomprensibile Non possiamo star qui a dire Sicuramente le donne per colpa del femminismo Scopano i brutti Se fosse così vero Del femminismo sarebbe la cosa più amata dagli uomini Quando in realtà non è così Ma tecnicamente parlando Le donne sono complicate solamente nei limiti Del fatto che non conosci qualcosa Le donne sono come un circuito elettrico integrato Non lo capisci Quando lo studi le capisci Sono complicati in quel limite lì Ma anche perché poi sono tutte diverse Sembra un po' indimostrabile come dato Però c'è una cosa che effettivamente ho capito Parlando con le donne Ed è il fatto Andrea Olifan No però mi sa che la signorina Verderame ce l'ha Abbonatevi tutti così mi fa le sub Il fatto che la mentalità superi l'estetica Dai, dai, redpillato del cazzo Dai, dimmi il contrario Scusa non volevo essere aggressivo Siamo effettivamente per vero Che il bello piaccia di più del brutto E ci sta Ok, ok, ci fotto Sì, abbastanza reale Vabbè, ma è normale È normale che il bello piace più del brutto Cazzo vuol dire, scusatemi Cazzo sì È normale Ma cosa vuol dire? Ma è normale Ma questa è una cosa base Ma questa è una cosa base, scusami Cioè, voglio dire Grazie al cazzo Ma questo vale anche per gli uomini Ma però Hai solo scrostato la superficie del discorso Però non sai quante volte Mi è capitato di parlare con delle ragazze Che mi dicevano effettivamente Sì, per carità, è bello Però apre bocca e me la fa asciugare Eh sì È abbastanza Tipo quello del video Tipo quello di questo video Effettivamente la capacità comunicativa è abbastanza importante È bello però, madonna che viscido È sì, è bello per carità Però parla solo di calcio Ed è qui, Chris, che entriamo in gioco noi brutti, ok? È qui che dobbiamo Entrare di soppiatto E cambiare mentalità, cazzo Adesso io non sono qua per fare il guru O discorsi motivazionali del cazzo Stanno sui coglioni pure a me, ok? Per pullare una dieci, bro, devi fare queste cose E questo è il momento di investire in crypto Però posso Roba a cazzo Quanto meno parlare della mia esperienza, ok? La mia vita non è che si è stravolta, ovviamente No, Jumbo, tu hai fatto un discorso logico e sensato Che ha perfettamente senso Per qualunque persona cerebralmente normodotata Superiore a 18 anni E il tizio lì ribastò all'asilo Anzi all'elementari, anzi forse alle medie Quando aveva 11 anni Che diceva Bello, sesso, brutto o no? Cioè, quello è il problema Per carità Ero brutto quattro anni fa E adesso sono brutto Piano piano c'è una retrocessione del capello Qua che fa paura Però ho cambiato mentalità L'alternativa era spendere 10.000 euro Per fare la maxillo facciale Però è un intervento un po' Mi fanno paura gli aghi Mi fanno anche paura 10.000 euro Non so se avete mai Quello forse più degli aghi Hai sentito parlare della leggenda Della mano di Doyle Bronson Il signor Doyle È una delle più grandi leggende del poker È stato uno dei giocatori di poker Più rispettati nella storia del gioco Doyle Bronson ha vinto innumerevoli volte Con una delle mani peggiori del gioco Una delle mani più brutte del gioco 10.2 Doyle Bronson giocava 10.2 Come se fossero due cazzo di assi Ok La maggior parte di noi sarebbe 10.2 Passo, vaffanculo No bro, 10.2 Io 10.2 le gioco, cazzo Si vede che è la sua mano fortunata Sono sotto di 1.000 euro Che idiota Porta quello che il banco ti dà Tu puoi vincere anche con la mano più brutta del gioco nel poker Ovvio, se devo andare all'in preferisco andarci come una coppia d'assi È per carità Però il signor No, Jumbo, no Io manco per il cazzo Perché canonicamente la coppia d'assi è una delle cose più sfigate che esista al mondo Te lo dico Tra i giocatori di poker Se c'è considerato una mano sfigata è la coppia d'assi Quindi Doyle, cos'è che ci ha insegnato? Che devi sempre dare il massimo Mentalità Bronson Sei brutto? Non importa Cioè è un po' sì in realtà Non quanto pensi almeno E te lo dice uno che ha il certificato di bruttetto Sono brutto Se sei brutto non importa Se sei stupido sì Mi dispiace Quella brutto Troppo rassegnati La genetica con te è stata particolarmente crudele Se sei brutto puoi comunque trombare Se sei stupido Devi essere veramente bello per compensare il fatto di essere stupido E comunque è più probabile che le donne ti useranno come palo Non so come descriverlo Come tubo Per il divertimento Che è come relazione fissa Quindi Come tubo del piacere Come palo della felicità No è che in una relazione serve quella Cioè quella è la differenza Un conto è cosa vuoi Un conto è cosa vuoi Per le donne va la stessa cosa Certo Certo Totalmente Lady totalmente Cioè Gli unici uomini Che si fidanzerebbero Con la prima donna che gliela dà Sono quelli che non l'hanno mai vista Se tu vai da qualsiasi uomo Che ha avuto almeno una relazione Una relazione Lui già comincerà a scremare Le donne che Non ci voglio parlare Me la tromberei Ma non mi ci fidanzo Me la tromberei Mi ci fidanzo Cioè Lì già cominciano a scremare Perché Io ti dico la verità Io questo è una cosa E non sto scherzando Io da quando avevo vent'anni A quando ne ho adesso Ne ho adesso Da quando avevo vent'anni Scusa Fino adesso che ne ho trentacinque In questi quindici anni Io ho ridotto Il numero di ragazze Con le quali mi fidanzerei Di un buon Cinquanta per cento Cioè Mentre a vent'anni Penso che sarebbe stato Facilissimo Per me Considerare una ragazza Come fidanzata Perché Non aveva ancora Ben chiaro Le problematiche Relazionali Adesso Un buon Cinquanta per cento Delle ragazze Che ho pensato Di poter No Totalmente escluso Totalmente escluso Cioè proprio Te lo dico No Cioè un conto è una botte via Un conto è un fidanzamento No Oggi come oggi Scremerai tantissimo Perché Ci sono delle problematiche Di gestione relazionale Dietro Che O hai un carattere Simile al mio Sennò diventa Veramente difficile Riuscire a avere una relazione Diventa Veramente difficile Perché dipende Come sei fatto Dipende anche Come sei fatto Scegli Di conseguenza Con un fidanzato Che ha un certo carattere Tendi a plasmarti Per adattarti a lui E sei felice Sei una persona Che Non si Plassa Sei una persona Che tende a plasmare Gli altri Al tuo carattere Sei una persona Elastica di mente Non elastica di mente Quindi Arrivo Grazie per gli otto Palatino Grazie mille Quindi dipende anche molto Dal carattere che hai tu E Tu pensi al tuo carattere Vedi il carattere di quella persona E dici ok Con lei ci duro Due settimane Due settimane Poi è finita Poi è finita Cioè nel senso Insomma Essere brutti È un dato di fatto Ok Però perché dobbiamo vivere In base a questo Dieci e due bro Io ho fatto dieci anni Basket Quando ero più piccolo Ho fatto tanti tornei Tanti campionati In uno di questi La mia squadra Ha affrontato La Fortitudo La fucking Fortitudo raga Non solo era la più forte Del campionato Ma era la più forte Dell'intera regione Ok Forse era la più forte Anche dell'intera Italia Io invece ero Della Libertas Io non mi esprimo Perché so che a Bologna Abbiamo la Virtus E la Fortitudo Ma io non seguo il basket Torti gobbi Noi ogni pallone Lo giocavamo come se fosse Quello per la vittoria Ok Lottavamo con il sangue E con i denti Persino il nostro allenatore Urlava Ci faceva il tifo Ci dava la forza L'allenatore durante la pausa Mi ha fatto pure i complimenti Per la mia grinta La mia aggressività E 110 a 11 Abbiamo perso 110 a 11 Ma abbiamo lottato Contro la fucking Fortitudo A di là del risultato Non solo ci siamo presi I complimenti dell'allenatore Ma anche gli applausi del pubblico Ed è ovvio Con gli applausi E con il tifo Tutti giochiamo meglio Però quei cazzo di applausi Devi meritarteli Nessuno applaude un ragazzo Che rimane in panchina E non si alza nemmeno E questo secondo me È il problema della black pill Non stare in panchina Chris Devi far qualcosa Per poterti meritare l'applauso Eh ma ce la deve anche fare Jumbo Tu la fai semplice Se sto qua è mentalmente limitato E se sto qua è mentalmente limitato E non è in grado di capire Concetti basilari Devi far qualcosa Per meritarti l'attenzione femminile Non è che arriva così Poi noi brutti Dobbiamo faticare il doppio Lo so Però quell'applauso Ce lo prendiamo cazzo Sti cazzi che là fuori c'è il belloccio Sti cazzi che là fuori c'è Di Caprio Che mi fa concorrenza Scopandosi l'Under 25 Assoluto Vabbè ma cosa vuol dire Ma non è una gara Là fuori ci sarà sempre qualcuno Che è meglio di te in qualcosa Cioè non esiste Ma quello è ovvio Non ti puoi paragonare Nel mondo ci sarà sempre qualcuno Più bravo di te Io e Di Caprio Competiamo per le stesse ragazze Solo perché Berlusconi è morto Perché se no eravamo in tre Ma poi parliamoci chiaro È finita l'epoca dei belli Ok Non piacciono più a nessuno Alle donne ormai piacciono i brutti Viene considerata bella ormai gente come Giacobelordi Chris sei meglio te di Giacobelordi Effettivamente c'ha un bel telo eh Boh non lo so Anche quello è importante Il telaio effettivamente Terry grazie per il 12 Il telaio effettivamente è importante A me non piace ok Timothy Shalamet Un discord user che ce l'ha fatta No ok Un discord user che ce l'ha fatta Belli di noi Sì ok effettivamente sono più belli di noi Io non dico Che schifo i peli sul petto Lo so lei sei ancora piccola Non sei troppo piccola per apprezzare queste cose Tranquilla crescendo Ti passerà questo problema Che le donne non guardino l'aspetto estetico ovviamente L'occhio vuole la sua parte Però non sono come noi O almeno non sono come me Io guardo solo l'aspetto estetico Dipende quanti peli in effetti Dipende Dipende quanti Quanti Dipende Le ragazze ci passano sopra l'aspetto estetico Quindi sì l'importante è curarsi un minimo Cioè non devi essere proprio un puzzone Un po' interacri Non lo so Cioè quelle sette ragazze che guardano i miei video Possono commentare Zio devi essere figo Non devi essere bello Devi essere figo E questa è la differenza C'è differenza tra essere bello e essere figo Perché quando una donna ti guarda Sta vedendo il potenziale padre dei suoi figli E io lo ripeto I suoi figli Allora Questa è una cosa che ci tenga specifica Zio 1 2 3 4 eccetera Grazie mille Se tu sei uno sfigato di merda Con un carattere inutile Può essere che il figlio diventi così E lei geneticamente non può permettere Che questo errore accada Quindi Quindi Se sei figo È un certo tipo di carattere e carisma Comunque è probabile che il figlio nella vita Se la caverà Perché magari diventerà come il padre Quindi è diverso essere figo dall'essere bello Scrivendo cosa ne pensano È brutto Giacobelordi Ragazzi voi lo sapete che Sì l'istinto genitoriale è intrinseca a priori Sì sì quello è ovvio Io prima non ci vedo un cazzo Vabbè Anche a step va bene Ogni giorno I vostri dati personali Da quelli pubblici A quelli un pochino più privati Vengono Ti voglio bene giù Scusa schifo E lasco di Money Sonanza È appunto che il redpillato di solito Crede nella teoria LMS No Look Money Status Quindi comunque puoi pullare qualche bella donzella Se non c'è il look Se non c'è la bellezza Puoi sempre puntare sui soldi O sullo status Però il blackpillato a questo punto Si è arreso su tutte e tre Cioè Chris tu mi stai dicendo che Ok sei brutto Tieni Tanto ne ho due In quanto blackpillato ti sei reso sul fatto che non puoi fare soldi E sul fatto che non puoi avere uno status elevato E quindi conquistare qualche ragazza Adesso ti dico la mia rigida La teoria dell'età relativa Teoria dell'età relativa? Che cazzo? Secondo me ognuno raggiunge il suo prime con l'altro sesso A un'età diversa rispetto agli altri C'era questo mio compagno di classe Che era carino Molto carino Un bel ragazzo Non l'ho mai visto senza figa ok? Ogni sei mesi si lasciava e tu dicevi Ah adesso sicuramente piange Sarà triste Sarà depresso come me Un mese dopo Era già con l'altra cazzo Ne sbustavano dietro l'altra manco fosse Federic95 Ragazze che se all'epoca ci fosse stato TikTok avrebbero fatto competizione ad Alessia Lanza Insomma qualche anno fa lo incontro dopo tanti anni che non lo vedevo E gli faccio Bella bella bro bella Ma sempre a scopare tipe stai vero? 20 secondi di silenzio lui mi fissa negli occhi Bro gli scende una lacrima immobilizzato e mi fa No Matte grazie per i dieci Inzio prime Era finito Eh sì è ovvio Questo accade quando solitamente l'unica cosa che ti serve per scopare è la bellezza E non sviluppi le altre caratteristiche Questa è una cosa abbastanza comune che è capitata anche a moltissimi miei conoscenti delle superiori Che fino a quando avevano 18, 17, 16 anni 18 anni anche Erano fighi Scopavano solo perché erano fighi Essere belli l'unica cosa che importava è scopava la manetta Poi dopo ha cominciato a fare 25, 30 anni E a quel punto le ragazze hanno cominciato a chiedergli Ma quindi che lavoro fai? Come te la cavi con una potenziale famiglia? Sai che cos'è un mutuo a tasso variabile? Come stai col conto corrente? Sei in grado di capire come fare la spesa? Sai come funziona la sistemazione di un appartamento? Eccetera eccetera La macchina E a quel punto non si chiama più Mi dispiace Sara grazie per i 5 Non si chiama più Mi dispiace perché quando più cresci Più è tutto il resto quello che conta Queste sono cose secondarie Quando hai 18 anni sì Quando ne hai 30 no E questo è il problema Quando cominci ad andare intorno ai 30 anni E' tutto il resto che è importante Se non sai fare quelle cose lì Sei solo un bambinone troppo cresciuto E ti assicuro che i bambinoni troppo cresciuti non trombano E mi è capitato di vederla questa cosa Ve lo posso assicurare Mi è capitato di vederla Ho 15 anni e non chiavo Tranquillo le cose miglioreranno col tempo Non ti preoccupare Ma è tranquillo Le cose miglioreranno col tempo Perché per tutti voi che avete 15-16 anni E non trombate perché vi sentite brutti Tranquilli Le cose col tempo miglioreranno Per il semplice fatto che Crescendo passeranno gli anni E voi non è che peggiorerete più di tanto Ma gli altri diventeranno tutti più brutti Ma è la verità È la verità Quando arriverete intorno ai 30 anni I figaccioni saranno tutti un po' bruttini con la panza Tranquilli Dovete solo aspettare che peggiorino gli altri Non vi preoccupate Non vi preoccupate Non do a farse speranze E' così E' così giallu E' così E' porco 2 Io ho rivisto un sacco di miei amici delle superiore Cazzo se sono diventati brutti Cazzo se sono diventati brutti raga Ma brutti Chi è diventato completamente pelato Con le occhiaie A chi è venuto a una panza della madonna Chi gli sono venute delle rughe bestiali Chi è diventato Ragazzi brutti Eh ma l'età non perdona a nessuno Eh voglio dire Questione di priorità Ogni circa 8 anni Cambia il tuo status quo E quindi cambia anche la tua visione della vita Sì Delle donne e delle responsabilità Dopo i 30-40 Sì Io ne ho 40 Vabbè dopo oramai siamo legali Ma anche tu hai la pancia Ma io ho sempre avuto la pancia E questa è la differenza Io non sono peggiorato Io sono rimasto costante Io l'ho sempre avuta la pancia Non c'è stato un peggioramento Io ho mantenuto la linea Quindi non sono peggiorato Sono rimasto uguale È proprio quello il punto Ne ho quasi 17 Solo un palestrato egocentrico E non trombo È quello il problema Filippo Smetti di farle egocentriche Chiavi a bestia Che te ne frega scusami Non farle egocentrico Gli egocentrici non trombano Te lo dico Perché Cioè Rettifico Gli egocentrici Per il fisico Non trombano Non dico che devi smettere di esserlo Ma fai finta di non esserlo Che cazzo ne frega Fai finta di non esserlo Fai finta Fai il modesto Perché purtroppo Quelli troppo palestrati Hanno il problema Quelli Quelli molto Che sono molto sicuro di me Quello non è essere egocentrico Però Quello non è essere egocentrico Più che altro Dipende 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 cosa intendi Io brutto ero fino al diploma E brutto rimango Cambia solo che ora Sono depresso Con impese Cagate da partita IVA Ma tanto Tanto la bellezza Non è così importante Tranquilla Nel senso perché Le donne quando vedono Quelli troppo palestrati Dopo pensano che Sei più concentrato Sulla palestra Che su di loro Ed è un problema Capito Quando le donne Ti vedono E pensano che Ti guarderesti lo specchio E ti masturberesti Su te stesso Quella asciuga le fighe Mi dispiace Questa è la verità dei fatti Ci sta che sei sicuro di te Ma non fare il narcisista Non fare quello Che si guarda lo specchio E si masturberebbe Sui propri addominali Perché quello Alle donne non piace Quella asciuga le fighe Perché sembra che Sei più concentrato Su di te Che su di loro E pensi solo a te Piuttosto che a loro Non farlo Pensaci Ma non farlo Questo non aiuta Magari Il nostro deve arrivare No? Per esempio Quando facevo Tanti sport Cuccavo E ho avuto Una relazione Di sei mesi Quando avevo Quattordici anni Poi a diciotto Ho conosciuto La mia ex ragazza Ora sei meraviglioso Sei bellissimo Ritrovo a 22 anni Che scremo molto Quando devo fidanzarmi Perché l'aspetto estetico Si ma La testa Gli obiettivi Lavoro Soldi Eh beh è ovvio La bellezza Si ma fino ad un certo punto Perché molti ragazzi Dell'età mia Pensano a scopare E per me No cerco In una ragazza Qualcosa di serio E duraturo Attento a quello che chiedi Perché potresti ottenerlo Te lo dico Stai attento È una fidanzata A serie duratura È un gatto Attaccato alle palle Che graffia Te lo dico Stai attento Allora Filippo Sei bellissimo così Hai ragione Ad essere egocentrico Effettivamente sembra un video Da blu pillato Comunque posso dire una cosa E sono seria Voglio ringraziarti Perché in qualche modo Mi stai aumentando L'autostima E per me È estremamente difficile Averne un po' Visto che vivo In un ambiente Dove sono costretta A fare dieta Solo perché devo Quindi grazie Peccato sei a Dachau Cosa vuol dire Cosa vuol dire Sei in un campo Di concentramento In che senso Aaron Grazie Beh sono contento L'importante è che tu stia bene Ma Chris Volevo farti sapere Che io mi sono visto Tanti i tuoi video Mi sono addirittura visto Tutta l'intervista Che hai fatto con Marco Crepaldi Un'ora e mezza E ho capito Che la maggior parte Delle tue sofferenze Deriva dall'altezza E io su questo Eh vabbè L'altezza Mezza bellezza Effettivamente è vero Non posso metterci Troppo bocca in realtà Cioè in realtà un po' sì Perché sono 5 piedi e 9 5 piedi e 9 È un'altezza Che in America Viene vista come 5 piedi e 9 Non sei un nano Scusami Quindi in qualche modo Posso parlare anch'io Ma non sei basso Scusa 5 piedi e 9 Che cazzo è Un e 76 Cos'è No Un metro e 80 E 5 piedi Cos'è Un metro e 75 E 76 Ero piccolo Avevo un libro C'era questo piccolo Albero di pero Che cresceva in mezzo A tanti altri alberi Ok E lui era Ma lui è un metro e 70 Scusa Jumbo O sarà Sarà che è magrissimo Sembra un metro e 94 Sembra un metro e 95 Sarà che è uno stecco Quindi sembra altissimo Basso C'erano tutte queste querce Gigantesche attorno a lui Che gli coprivano il sole Lui era piccolino E non cresceva proprio Perché non riceveva Abbastanza luce Ogni giorno e notte Lui è tristissimo di questa cosa Perché è l'albero più basso Di tutta la foresta Poi un giorno Arrivano gli esseri umani Che fanno completamente Piazza pulita Di ogni albero Ok Tutte le querce Salici morti Tutti pini Tutti giù Tutti morti Tranne il piccolo pero La morale è Se sei basso Fatti le pere Se sei Che cazzo dice C'è Che cazzo sta dicendo I basso dei superiori Puoi nasconderti meglio Senza essere notato E non farti interrogare Che poi l'altezza Non è così importante Non so Chris Le sto provando tutte Ma non credo D'essere dagli Eh purtroppo È una cosa Invece che si guarda molto Ma lì Non ci puoi fare niente Che cazzo Ti devo dire Che poi c'è C'è questo Boh Si credo faccia schifo E serbasti Sono bravo ad ascoltare Non è fondamentale Non è fondamentale Per trombare Essere alti Non è fondamentale Io avevo un conoscente Che era basso Però faceva tutto il rap Satteggiava a fare tutto il rap Yo yo Maglia larga Cannoni eccetera E trombavo un botto Trombavo un botto Non so perché Da adolescenti Quelli che fanno un po' I rap freestyle Scopano un sacco Quindi Lui trovava un botto Anche se era nano Per cui Non è Non è Cioè aiuta Però Che poi parlando d'altezza Io l'anno scorso Mi sono reso conto Di una cosa Dopo 40.000 anni Che sono in vita Ovvero del fatto che Se tu sei alto 1,80m Tu in realtà Non hai mai vissuto A 1,80m D'altezza Tu la realtà Che ti circonda La vivi dai tuoi occhi Ok Si effettivamente Vivi da più in basso E gli occhi sono almeno A 10-11 cm Sotto la parte più alta Della tua testa Per questo Quando vedo per strada Uno alto 1,70m Penso Cazzo Però È alto In realtà È solo che I miei occhi Sono più bassi Del suo punto più alto E quindi Mi sembra più alto E per quanto possa sembrare Una stronzata Questo significa Che noi ci sottovalutiamo Tantissimo Perché noi pensiamo Di essere molto più bassi Rispetto a quello Che effettivamente siamo E gli altri Ci vedono più alti Di quanto noi vediamo noi stessi Senza pensarci troppo È vero Che carino Quindi Eh sì è vero Quindi Haru Vede le cose Da un'altezza di 92 cm Poi io Mi immagino di essere Alto così Di capelli unici Quindi questo è già un indicatore Di quanto effettivamente Abbiamo una percezione Sbagliata Della nostra altezza Perché i miei occhi In realtà sono a 1,65 Quindi gli altri Sono dei giganti In confronto So che questo è un problema Grande perché appunto Tu sei tanto basso Però sono sicuro Che avrai altre qualità Che carina Ti squizzo le guance Quando ti vedo Ed essere e sentirsi Blackpillato Secondo me È uno dei tanti ostacoli Che noi ci auto imponiamo Io so che questo video Verrà visto come quello di un Io preferisco le ragazze basse A quelle altre Sarò sincero Non è una Scrematura obbligata Però io le preferisco basse Sono tanto carine Quelle ragazze basse Sono piccoline Sono tascabili Quando si arrabbiano Sono buffe Quando si arrabbiano Ti viene voglia Di mettergli una mano Nella fronte Che loro fanno così E non riescono neanche A colpirti Che sono buffe Quando cominciano A brontolare Le puoi prendere Per le ascelle Le puoi sollevare Le tenere su E le fai Ti ho rapito Non tocchi coi piedi Sono carine Sono pacciochine Le ragazze buffe Sono molto buffe Fanno un sacco ridere Poi hanno anche il braccino E la manina nana Hanno la mano piccola Quindi il tuo cazzo Nelle loro mani Sembra molto più grande E' ancora più divertente E' divertente Giocare con loro A braccio di ferro Perché le puoi battere Con un solo dito Come ho fatto oggi Io con Naomi Che non so perché Ha voluto fare Braccio di ferro con me E io l'ho battuta Lei usava due braccia Io ho usato l'indice L'ho battuta